Tina vive in un glorioso passato, Roma è costretta ad affrontare un drammatico presente. Allora, aristocrazia no, oligarchia, tirannia anche, dittatura. Facciamola, Kim dice che è una bomba atomica! Il pupazzo Choo ha pagato cara l'eruzione, adesso tutti lo chiamano Choo Face. Monarchia. E vabbè, tu lo sai, a me le monarchie piacciono. Però non è che possiamo dire al popolo che siccome abbiamo vinto noi facciamo come ci pare. E qua ci tocca fare, che ne so, un federalismo oppure come si chiama quella cosa lì? Democrazia. Ma che? Niente, un fatto dove tutti quanti sono liberi, tutti votano. Una sciocchezza. Dovremmo fare le elezioni. Come facciamo ad essere sicuri di vincerle? E beh, quello è facile. Bisognerebbe presentare un programma di governo credibile dove raccontiamo ai cittadini in maniera onesta tutti i sacrifici che bisogna fare per avere un futuro più equo, più giusto. Più equo. Per il bene di tutti. Il futuro. Il popolo. 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 Giusto.